La società di oggi, secondo la mia opinione, critica senza conoscere. Questo è quello che penso, personalmente parlando, per quanto riguarda questa società in cui noi viviamo al giorno d'oggi. La troviamo in una società che si permette di criticare senza conoscere, non vuole conoscere la persona che viene a essere criticata e la società di oggi, secondo me, sputa sentenze senza riuscire a capire che una persona, ma anche più persone, devono essere conosciute, devono essere apprezzate e, eventualmente, solo dopo una approfondita e quindi totale conoscenza, si può dire se una persona è effettivamente uno stinco di santo oppure se è una persona malvagia e quindi cattiva. Bene, questo è il mio parere, questa è la mia opinione. Io, quando parlo di società, mi riferisco in particolare non tanto a tutta la società, ma mi riferisco alla gran parte delle persone che vivono in questa società attuale. Questo, ripeto, che è il mio parere personale. Se qualcosa di ciò che avete ascoltato potrebbe essere dichiarato come falso, non vero e che non appartiene alla realtà, me ne scuso, ma questo è il mio parere personale, è il parere di un essere umano. Grazie, iscrivetevi, saluti e a presto.